un applauso per Iva Binotto grazie che sono con noi proviamo a vedere come si sta fuori prima una parte o un'altra non è abito per neanche mai ragazzi siete pronti? sono pronti, sì dobbiamo già morare più di paletto 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4